Stamattina ero a l'ostello, dove avevo rigirato il primo mio cortometraggio. C'era un ragazzo che è venuto vicino e diceva il signor Plinio, Plinio Ciabatti, l'attore, l'ho vista l'altro giorno a San Lazzaro, al teatro di Napoli. E io mi chiamo Luigi e io continuavo a chiamarlo Ciro. Ciro mi chiedevo, mi chiedevo, è stato vicino a me, Ciro mi chiedevo che mi ha fatto tanto ridere e tanto fare, la tutta parola. mi dico che avete bisogno, lei aveva questa cartellina in mano, mi dico boh, questa cosa è male, lei dice no c'è il curriculum tu, mi dico sì, il curriculum tu, mi dico sì, dice lei che è inserito nel mondo del spettacolo se mi puoi aiutare, qua stiamo a Napoli, e approccio lui, la stava Plostella Marcellino, io dico Cilu, e lui mi continua a dire, io non mi chiamo lui, mi chiamo Luigi, dice Cilu, sedete, perché io non mi chiamate Plino, io mi chiamo Plino, basta, no signor Plino, sì, chiaramente, sono un plafonato, per carità, nessuno lo mette in dubbio, come diceva Dodò, sono un plafonato, sono una persona che ha sangue blu, però questo non vuol dire che sono superiore agli altri, non c'entra, ma sono una persona che semplicemente si dà, si mette in gioco, comunque lui caccia questo curriculum, e io gli dico, guarda, e lui incomincia a fare, tirate le azioni, questo e quell'altro, e io gli dico, guarda, lui vuole fare tutte queste cose, perché, come dice il mio nipote, il mio nipote che vive a Milano, si chiama Marcellino, in realtà, questo è il mio tre nipote che io voglio più bene di lui, perché tre nipote, eh, sono tre nipote, lui è il primo dei tre nipote, e quando lui mi dice una frase molto giusta, a liscia per usci, una parola molto giusta, che in realtà significa il napolino, colui che, ti cominciate a fare l'adulazione, l'adulazione, e poi dopo chissà che vuole, allora a questo punto, io dico, eh, Cirù, e lui mi dice, no, se ho Plinio, io mi chiamo, io mi chiamo Luigi, hai capito che mi chiamate Luigi, però voglio dire, la cosa, la cosa principale, non è che uno si confonde, o il nome, o questo e quell'altro, però la cosa principale, è che quello che voi mi trasmettete, le sensazioni che abbiamo, che cosa mi state chiedendo voi, se posso aiutarvi, io vi aiuto, e lui mi dice, ma non a noi, a me stesso, solo a me, e vi aiuto, del verbo vi aiutare, diceva aiuto a voi, non aiuto, con lo balle, con lo bambino di ciclo, aiuto a voi, a voi tu, e lui dice, ma, eh, siete, io ho visto delle cose vostre, siete, eh, ragionabile a Massimo Troisi, no, Massimo Troisi è un artista, è il maestro, ragionabile a nessuno, io sono Plinio, sono semplicemente Plinio. e con questo voglio ringraziare e salutare Napoli, sono tornato a Napoli dopo un anno, saluto specialmente a lui che ammiro di più di tutti, che qui è in modo reale, è una persona che ho lavorato assieme e so che è una persona seria, e che non guarda i soldi, che ama la professione, che ama questo tipo di lavoro, forse oggi non è più il tempo di questo lavoro, però si spera, io non spero, perché c'è stato dentro un po' troppo, quindi quando uno è stato, il mio modo di fare, morispo, forse non è capito, certe volte riguardano come gli ignoranti, ma secondo me è il ruolo che dovevo fare, l'ho fatto, e quindi comunque sicuramente, sicuramente saluto le persone che ho avuto a che fare in questi anni, che sono tanti, tantissimo, in tutte le città di età, non mi sono spostate da tutte le città, in un momento ho fatto lavori differenti, tipo percorso, pescheria, non è da Plinio, però l'ho fatto, ho fatto teatro la sera, ho fatto cose che secondo me vale la pena di fare, sia per i soldi sia per la gratificazione personale, e sia per far sì che la gente non ti guardi come extraterrestre, ma la questione normale che si sa buttare, è una normalità, la verità, tra piccolette, ma quasi tutto, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!